Un saluto ben ritrovati con le previsioni di Tribi Meteo. Nella giornata di venerdì il vortice freddo posizionato sulla Francia lentamente tenderà a muoversi verso la Gran Bretagna, allontanandosi dunque dal nostro paese, ma comunque marginalmente ne sarà ancora coinvolto, infatti avremo ancora della variabilità soprattutto al nord. Osserviamo la mappa della nuvolosità che ci mostra appunto come le nuvole interessino ancora all'arco alpino parte del nord Italia, qualche annuvolamento anche al sud ma di poco conto e osservando anche lo zoom delle piogge notiamo come ancora al nord Italia si ha le prese con qualche disturbo soprattutto nella prima parte del giorno ma poi dal pomeriggio andrà a riattivarsi l'instabilità su gran parte della Val Padana e sull'Appennino. Vediamo dunque il tempo che ci aspetta nel corso della giornata di venerdì, avremo dunque un contesto soleggiato sul centro-sud Italia ma con l'incremento dell'instabilità durante il pomeriggio sulle aree interne appenniniche con qualche fenomeno, al nord avremo ancora dei disturbi in mattinata soprattutto al nord-ovest con residue piogge ma poi dal pomeriggio andranno attivarsi degli acquazzoni anche sotto forma di temporale a carattere sparso che coinvolgeranno in parte la Val Padana e soprattutto i settori prealpini. Temperature stazionarie in ripresa sulle regioni settentrionali. Per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app di Tribi Meteo.